ciao a tutti oggi ho preparato per voi la corona di pane ripiena di prosciutto e formaggio è una ricetta che ho preparato con il mio messier chiusi in connect ma che potete preparare anche allo stesso modo con il messier chiusi in plus guardiamo il video e scoprite la ricetta ed il procedimento per preparare la nostra corona di pane ripiena abbiamo bisogno di 140 grammi di acqua fredda 15 grammi di lievito di birra fresco 270 grammi di farina zero 50 grammi di strutto un cucchiaino di sale questo per l'impasto per il ripieno utilizzeremo invece 100 grammi di salame tagliato a cubetti e 100 grammi di formaggio io ho usato il provolone dolce per la decorazione semi di papavero o semi di chia la prima cosa è la preparazione dell'impasto che andrà a lievitare quindi mettiamo nel nostro boccale l'acqua il lievito e andiamo ad impostare un minuto a 37 grammi di velocità 2 andiamo in via adesso aggiungiamo la farina e il cucchiaino raso di sale farina il cucchiaino di sale e andiamo ad impostare un minuto e mezzo la funzione automatica impastare quindi andiamo nella sezione delle funzioni automatiche impastare e portiamo il settaggio dai 45 secondi di preimpostato a un minuto e trenta e diamo via adesso aggiungiamo lo strutto vi faccio vedere prima come viene l'impasto quindi questa è la consistenza dell'impasto aggiungiamo strutto e diamo di nuovo la funzione impastare sempre di nuovo un minuto e mezzo via nel frattempo abbiamo infarinato una ciotola e andiamo a posizionare all'interno della ciotola il nostro impasto per lasciarlo a lievitare circa un'ora vi faccio vedere la consistenza dell'impasto guardate com'è elastico adesso svuotiamo bene il boccale ho svuotato il boccale guardate la consistenza dell'impasto com'è elastica adesso la vado a mettere appunto nella mia ciotola e la lascio lievitare circa un'ora nel frattempo anche senza aver lavato il boccale perché vi faccio vedere è bello abbastanza ben pulito vado a mettere il contenuto della mia ciotola quindi il ripieno all'interno del boccale e lo vado a frangare con una velocità progressiva da 1 a 6 quindi non metto il tempo ma imposto la velocità da 1 vediamo se la consistenza ci soddisfa perfetto vado a mettere nella mia ciotola e copro questo impasto e lo metto a lievitare ci vediamo dopo l'ora è trascorsa vado a prendere il mio impasto e lo vado a stendere su un piano da lavoro infarinato per andare a formare un rettangolo quindi mettiamo l'impasto sul piano da lavoro in maniera molto delicata per non sgonfiarlo e lavorandolo prima con le mani e poi con un mattarello vado a formare un rettangolo una volta formato il nostro rettangolo vado a mettere il ripieno soltanto in una parte perché l'altra parte andrà tagliata quindi disponiamo il ripieno con questa parte qui procediamo poi a tagliare da questa parte lunga delle strisce larghe di circa un centimetro e mezzo o due centimetri quindi partiamo da qui adesso una volta che tutte le strisce sono state tagliate procediamo ad arrotolare la prima parte dell'impasto sul ripieno uniformiamo con le mani e andiamo a girare le nostre strisce che abbiamo fatto sulla parte arrotolata così adesso andiamo a alzare la nostra corona e a spostare sotto la parte che è in avanzo in questa maniera adesso tagliamo l'ultima parte e la prima parte che sono quelle in cui c'è soltanto l'impasto andiamo a formare il cerchio quindi la corona vera e propria e andiamo a posizionarla sigillando ovviamente bene le estremità in modo da non far uscire il ripieno e andiamo a posizionarla in uno stampo a ciambella che avremo precedentemente ricoperto con lo strutto ecco posizionata la corona all'interno dello stampo adesso la vado a coprire con i semi di papavero attendo la lievitazione al raddoppio ci vorranno circa un paio d'ore forse anche tre e poi vado a procedere con la messa in forno ci vediamo più tardi e vi faccio vedere come è appena la lievitazione le tre ore sono passate e la nostra corona di pane è lievitata intanto abbiamo messo a preriscaldare il forno a 160 gradi adesso andiamo a cospargere la superficie della corona di pane con dell'olio e terminata questa operazione andiamo a mettere in forno la nostra preparazione per 10 minuti a 160 e per ulteriori 30 minuti a 180 ci vediamo dopo per il risultato finale la nostra corona di pane è appena uscita dal forno adesso la faccio affreddare dopodiché la tiro fuori dallo stampo e vi faccio vedere l'interno ecco la corona di pane tolta dallo stampo vado a fare la fetta e così scoprite come è fatto l'interno ecco l'interno nella mia corona di pane spero che la ricerca vi sia piaciuta se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video e ad iscrivervi al nostro gruppo facebook Messier Cuisine Connect e Plus Italia in più vi invito a seguirmi sempre sul sito www.messierricette.it e ad iscrivervi a questo canale youtube in cucina con Messier per vedere tutte le altre ricette e tutti i miei video e buona corona di pane per tutti www.messiericette.it